Buongiorno, mi scusi ma per l'operazione come anestetico sa se usano Procaina o Lidocaina? No, non la capisco, può scandire meglio, vabbè lasci stare, forse non si vede ma sto un po' in ansia, sono un po' ipocondriaco, non è che potrei stringerle la mano Ciao a tutti amici, ora riprendiamo la respirazione del tacchino messicano Marcuzzi? Sì? Fra poco tocca a lei Marcuzzi? Sì? Prego il suo turno Buongiorno no 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 no